e balla a tutti ragazzi eccoci qua in uno video di fortnite oggi siamo in compagnia di sto coglione e dai dai sto scherzando sto bravo ragazzo si chiama non lo so ragazzi si chiama non lo so e la mare quando l'ha fatto era un po' briaga vero? vero? no no ragazzi si chiama edoardo però è sempre pirla vai ragazzi oggi che andremo a fare? oggi andremo a fare un nascondino con i cubi ragazzi ognuno prende un cubo cioè tipo uno sta qua raga senza guardare e ci sfonderemo in mezzo a corso commercio no? facciamo solo una parte o tutto corso commercio facciamo una parte tutto il commercio tu prendi vai tu prendi il cubo adesso prendi il cubo adesso veloce un attimo devo decidere che fare cioè quale fa verso quei quasi anche senza cubo anche senza cubo dai tutto 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 commercio a tutto no fai che a 45 prendi il cubo a 45 prendi il cubo e poi parti verso il commercio c'hai un minuto per nasconderti ok ok quindi a 45 prendo il cubo si e io non guardo tanto sto facendo il video quindi mangia oh tagliata mamma dai dai si è partito ok ma quindi tutto proprio tutto? si tutto 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 c'è senza sci eh no 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 non unisco non unisco io ce l'ho già un posto non l'ascosto buono nascosto già già ok perfetto buono nascosto vai allora io a 44 parto e ho 5 minuti per trovarci no no si dai facciamo ma vai parti adesso parti adesso no 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 facciamo facciamo quattro minuti se non basta quattro minuti in caso facciamo 5 va bene ok tanto questo commercio non è piccola detto non è che ti sei nascosto vicino cioè lontano quindi oh no malapena a sì allora non lo facciamo tanto a 44 parto eh oh non lo facciamo 4 minuti ti usi aspetta aspetta che non ti faccio vedere ma non ti faccio vedere fidale e cioè no volevo dire ma ne vinci mai oh mamma c'è che è è una nascosta beh devi ic qua non ci sei qua no nemmeno qua nemmeno ma dove sei ti nascosto proprio bene ma ti devo dire tipo verso il ristorante no adesso ci abbiamo tre indizi ah ecco ci ho messo il mio indicato ci abbiamo tre indizi ho già passato un minuto io che do il primo indizio vai allora mi devi dire un indizio sono verso le case quindi non dai negozi quindi no quindi nei negozi non ci sei quindi manco il taccosto no e quindi stai dentro le case ma poi manco detto dentro le case stai verso le case dentro e fuori da quella piscina di che sono ci sono un po' buggato dai con l'uomo mi ero buggato e mi sono messo no a 40 a finire del tempo già mi è passati due minuti ah ciao Dio come c'ho ti vedo come mi vedi no ma come mi vedi come fai a vedermi t'ho visto si certo quando sono trovato nella stanza ah no t'ho visto va anche dal secondo indizio sono verso le case a nord nord no nord est nord nord est tipo a 345 quelle sono ok ho capito casa distrutta casa quella lì dove vado sempre io il baracchino quello lì la stanzetta un'altra casa e poi c'è un'altra roba un po' distrutta qua non ci sei puoi si però io non ho cavolo non ho guardato i tetti vabbè no guarda te lo dico non t'ho sentito l'ho visto in lontananza ma non t'ho sentito mamma mia chiedo l'ultimo indizio l'altro manca 50 secondi sono nelle due case nelle tre case quella distrutta quella piccolina e quella dove vado sempre io sentito eh no no bro non ti vedo non ti trovo sei in questa casa per forza no bro dove sei io non ti sto sentendo io non ti sto ma come hai fatto come hai fatto con l'ombra sono entrato è vero con l'ombra che strong però non hai meno non hai mai l'aria aperta alla cassa perché almeno non sentivo il tuo rumore dei piedi bella topolino vado a questo punto, vieni qua che aspetti allora io a 39 parto con il cubo ok? lo prendo da qua cubo si aspetta che se no così ti vedo aspetta ok vai così non chiudo tanto io vado vado mi metto così metto dentro da qua così non ti vedo ho 39 parto eh e non so dove nascondermi vabbè però dai proviamo ah si forse ce l'ho un posto ce l'ho un posto vai un minuto per nascondermi ragazzi ho un posto magnifico ragazzi ho un posto magnifico no si ho paura che non ti do aspetta fatto vai parti a 38 aspetta parti a 38 e c'hai 4 minuti a 34 basta ok e c'hai 3 indizi quando è che mi dai i primi indizi quando vuoi tutti li puoi chiedere tutti e tre di fila o uno alla volta ok parto vai allora proprio il primo indizio per sapere un po' già allora mi trovo nella parte verso la scritta commercio non corso verso la scritta commercio si che cattiva è questa eh eh non te che mi posso dire eh eh non te che mi posso dire eh 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 ci sei? eh sto cercando ma non è un posto bello c'è ci ho pensato dall'inizio secondo indizio dai allora secondo indizio non sono nelle case della scritta commercio non ne sei nei nelle case no nelle case ah quindi sei nei negozi però ti ho detto che c'è posso essere anche fuori non ho detto che ci sono da dentro eh te mi stai facendo il mio stesso tarnello quello che ti ho qui quando vuoi chiedere di seguitarsi io non intanto ci manca te manca ancora 3 minuti ancora quindi ma c'è sei bugato cioè io ti un posto dove ti posso vedere no non mi puoi vedere ah quindi te ti sei entrato con l'ombra no dai no no lo sapeva che questo era un posto se ti dicevo il terzo inizio lo scrivetevi subito no 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 adesso ho ne so uno dove è abbastanza bello vai andiamo là arrivo io mi metto nella stessa base tua eh ok si se fai dei muri così guarda li faccio pure in ferro perché non voglio rubare guarda faccio qua accanto a te eh si però ok ahia parti a 35 a 35 e 30 facciamo che hai 30 secondi per nasconderti intanto 30 aspetta che non trovo no non trovo dei cubi 35 30 eh un attimo bro che non sto trovo dei cubi sì sì fa parte 20 dai 20 vai 20 cioè allora facciamo che c'hai c'hai 20 secondi per nasconderti tanto lo troverai posto in caso di più vale no dov'è che era il mio nascondiglio no 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 Adesso ci sono girato dall'altra parte Parto? Aspetta 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 Ok vai Vai mi gioco subito il primo indizio Allora Sono Dove c'è la scritta commercio No dai è stata la mia stessa indizio Non rompe Nella scritta commercio Ah ma Sono una scritta di corso Di corso Di corso Di commercio scusa Ok Ah devo studiare Puoi essere anche fuori Forse dentro Vediamo Nella scritta commercio Già Più o meno E' dal secondo indizio Allora Sono È presente Di dove c'è il pesce Il pesce Sì ho presente Sì C'è questo Eh io vedo Quel pesce lì Lo vedo Quindi questo pesce qua Lo vedi Come sai vederlo Allora dove sono io Quindi lascia stare le case Ti sto dando A molti inizi Lascia stare le case Io lo vedo Lo vedi Lo vedi Erano Erano fuori Iniziato a bagliare Dove stai? Eh che poi Ho dovuto chiudere qui Perché poi erano le persone Continuavano a bagliare Cusina? No no Mi gioco al terzo indizio Allora sono Nei Allora Io t'ho visto Come mi hai visto? Sì t'ho visto T'ho sentito e t'ho visto Non molto ho sentito Ma t'ho proprio visto Quindi vuol dire Restare in questo negozio Perché l'altro Ci sono proprio andato Ecco ti va Un po' Culo Ti ho sentito Quando Pensavo stavi dentro Il camion Pensavo No Vai Andiamo là Giga Quattro Cattia No ma Ma Quando sei arrivato Che cosa ho fatto? Ho spaccato Facciamo le robe lì Infatti un pochino Stavo sentito Ma pensavo Che stavi dentro il camion Non pensavo Che stavi lì sopra Vai Parto a 31 Tanto c'è un cubo qua Ah Aspetta che io mi chiudo Dove è il tempo Porto a 31 Vai parto Sono venuto per nascondermi Il posto io Allora Ce l'ho Sì ce l'ho Allora Diciamo che non è troppo Difficile da indovinare Però Ci sta Ho fatto Vai Per capire dove sei Primo indizio Allora Primo indizio Sono Facciamo Non lo so Aspetta Allora Non so che indizio d'arti Sinceramente Sono davanti A una montagna Cioè sono vicino A una montagna Sono molto molto vicino Mi hai sentito Mi hai sentito A 27 Finito Come secondo indizio Come secondo indizio Non sono Nelle case E nemmeno Nel tacos Tu devi ripassare Tu devi ripassare Quando spingi Io non hai sentito La prima di tu Ma Prendi un attimo Ma Qual Ma 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 Secondo indizio ci sta Un bordello Ma Montagna Grande o piccola Allora Montagna Vicino A un bosco Dove ci sono Tanti tanti alberi Cioè tanti alberi Non grandi Piccoli Una montagnetta Sì Ah Ora sei qua dentro Ti aiuto Non ti ho sentito Ma come l'hai fatto Mi sembrava Che mi hai sentito Anche a scuola Adesso ti hai sentito A scuola Non l'hai sentito Eh Eh sto sentito Che hai sparato Ma vicino O lontano Medio Medio Ti manca un minuto E hai ancora un indizio Eh Dammi Il terzo indizio Sono In uno Dei due Negozi Un minuto Dai ti prego Ti prego Un altro aiuto Sono Sono In quello Più piccolo Adesso ti ho dato Un indizio Assurdo Ma Cioè immagino Quale è quello più piccolo Anche dalla mappa Si vede È questo qua Io credo Verso quello lì Della schietta Corso commercio Su Non a destra Cioè almeno credo Più piccolo A questo qua Cioè quello lì Quello lì Verso la casa Ti ho nascosto Prima te 10 secondi 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Via Guarda 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 Dove ero Senti Gli spari Senti Gli spari Siamo qua Vieni qua Ma ma è un guello È già detto Un negozio più piccolo Guarda dove ero Ero qua Comando l'oro Guardi l'oro Vai 1 a 0 Facciamo gli ultimi Due round Vai Siamo a prendere i cubi Vai E beh Quindi ciò Ti metti che Non abbia i morti Più un altro Amo a 0 No Ti ho fatto Sto finì una cosa Eh Cosa Sto giocando Caccaoland Devo far proprio Difficile Vabbè Guarda Ma ti Inca Vabbè Fai 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 Io sono partito Devo far mega Difficile Ma sono fatti Prima Vai Io Mi nascondo Qua dentro Vai Quando vuoi Parti a 40 30 Anzi Ok 30 Quindi C'ho abbastanza Tempo Ok Vai Fatto Fatto Sono Sono No 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 Sei Ah no Devi dare Per me E' vero Più Pio Alcubo Intanto Aspetta Parto Tanto Parto 25 E' Si Pio Alcubo Più Ho Il salto 25 Parto Vai Vai Mi gioco Su Prima Inizio Sono Così Corso Commercio Però Non sono dentro casa Non sono all'esterno Cioè No Aspetta No No Sono all'interno No Scusa Mi puoi vedere All'interno Sicuramente Però All'esterno Non molto Così Qua Non c'è Mi gioco il secondo Indizio Allora Da questa qua Non sono Nei Negoti Esatto Ma sei Nelle case No Cioè Tu mi hai detto Prima Non mi puoi vedere Dall'interno Ah Dobbai Sta nella scritta Di corso Commercio Quindi No Io Allora Ci sono Di casa Ma Uno Beh Poi c'è anche Un negozietto Però Ce Sono passato In quel negozietto Ma La 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 Corsa Commercio Finisse Dove ne ero Nascosto Prima E lì Robo Finisce E ci sono Uno Due Tre Quattro Case Cioè Cioè Ma Quindi La Cosa Quella Di prima Intendi Quella Di prima Vale Come Quella Di Corso Commercio Sì 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 Vale Vale Mi sono Nascosta Prima Ma Quanto Ti manca 40 Secondi No Mi manca Mi manca Due minuti Perché Sono partito A 24 Quindi È 20 Sì Ancora Un Due Indizio Ancora Mi gioco Il secondo Ed è L'ultimo Indizio Scusa Cioè Non ti trovo Beh Mi gioco L'ultimo Indizio Sono Tra Il negozietto Il campo Da basket E Vole a Casa Lì Cioè Più Tra Il negozietto E quali Intende Quelle Del teakos No No Quello Lì Da Finta Con Su Commercio Con Il negozietto A fine Con Su Commercio Ah Tra Il negozio Il negozio Il negozio No L'è Un negozietto Tipo Poi La casa Con La cuccia Del cane E Il basket Un po' Un po' In mezzo In mezzo Diciamo Ma tu intendi il negozio dove c'è scritto geli o cose del genere? Eh non so cosa c'è scritto Cioè dove c'è tipo il coso coltivo un tipo qualcosa di ferro dove c'è la cassa sopra Sei intendi quel negozio? Eh sì Quindi il negozio è accanto Praticamente Sì Ok Quanto c'è? Dai 50 secondi Dai 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 Guarda Adesso ti posso neanche più dare in blitz Dai 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 Ciao Modifino Dai Dai Qua Guarda 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 Uno Guarda Quella Guarda Quanta Trentano 38 44 Ah io qua non ho controllato Cioè che sta durando troppo non te lo mette il video Se io non puoi farlo durare di più di 15ze 15 minuti Si che pent��ли la parte di più No di più no Si si c'è una impostazione troppa mettere Ah impostazione vale Io dico normale Dai dieci dalla caso sono in quella casa di tal basket e se ormai stavo a negozio per vera sarà il resto adesso e spara no vabbè c'è stavo qua veramente ma dai facciamo l'ultimo round poi andiamo guarda lo sai cosa ho fatto io mi ero messo qua all'inizio mi ero messo qui ma poi t'ho visto passare via lo io ho fatto così che cancro vai o prendo il cubo parto di 9 20 a che 19 15 19 10 fanno solo partiti ma è ancora una giusta ai partiti un posto è non so che posso prendere adesso però non lo dovrei mai questo no che fregatura che fregatura bro quando parte parte a 18 e qua ecco e 30 vai vai ho fatto vai parte 3 30 vai vai ho fatto bro sai che ho fatto aspetta intanto preudizio allora sono un pochino fuori ti dico che davanti a me vedo l'erba ti dico certo se vuoi proprio è l'ultimo round sono guardi all'erba che voi un attimo è l'ultimo round ma perché devi andare a mangiare no perché mi fai te lo rompe ma quando dammi un secondo indizio sento un rumore di una cassa vicinissima ma sei fuori o dentro fuori non sono né dentro case né dentro negozi mi senti bilda si ti sento no 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 ma non mi potete se stavi di fermo non ti sentivo ah perché mi hai sentito no perché ho fatto così guardami 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 tu stai là tu stai là guardo tu stavi qui no tu stavi qua mentre tu sei venuto qua guardami guardami ho fatto così guarda eh ho fatto così mi sono affacciato poco e ho guardato così ecco perché quando perché perché non sono restato fermo mannaggia me beh che dire uno pari quindi no aspetta no che uno pari tu hai vinto due volte cioè no aspetta tu hai vinto quella quella di adesso vabbè raga comunque abbiamo in teoria pareggiato uno a uno oh ahia no no fermo beh va bene raga spero che questo video vi sia piaciuto mettete un like mi raccomando per questo video ragazzi arriviamo a 10 like se volete un altro video con edo mi raccomando raga il pro player il pro player si perchè 15 15 dai quindi se arrivo a 15 mi piace farò un'altra un'altra challenge con edo faremo anche altre partite con edo questo scarzone raga quindi mi raccomando raga se non siete iscritti iscrivetevi che siamo arrivati da poco da quasi mezz'ora un'ora siamo arrivati a 100 da 100 iscritti quindi grazie di cuore a tutti beh che dire da me edo edo è tutto bella bella raga grazie a tutti grazie a tutti